Oggi vi voglio parlare di insonnia. Nella demenza l'insonnia può essere il primo dei segni dell'insorgenza di disturbi di comportamento anche gravi e spesso questo accade perché non siamo capaci, soprattutto in famiglia, di gestire questo problema perché non ne sappiamo l'origine, non sappiamo interpretarlo e tendiamo a azioni più decise, soprattutto con l'utilizzo di farmaci, nel trattarlo invece di ricorrere a sistemi più soft e più adeguati. Tanto quando parliamo di insonnia parliamo di fenomeni molto diversi, può essere un ritardo nell'addormentamento normale che il nostro paziente ha, a volte può essere un anticipo sensibile dell'orario di risveglio oppure ancora può trattarsi di una vera e propria inversione, ritmo sonno-veglia. Altre volte, e sono i casi più difficili da gestire, c'è una continua alternanza di momenti di veglia e momenti di addormentamento. Quali sono i primi rimedi da utilizzare? Certamente il primo rimedi è quello di guardare bene il nostro paziente, il nostro parente in questo caso, il nostro familiare e cercare di intuire o capire quale può essere il problema che è causa dell'insonnia, perché una causa c'è sempre, questo noi non la capiamo ma una causa c'è. Allora, fatto questo, si tratta di modificare intanto i primi elementi che possono essere di disturbo al paziente, partendo dal suo ambiente, la sua stanza in particolare, la stanza dove riposa, che il letto sia confortevole, che la stanza sia poco rumorosa, che le luci o la luce siano soffuse, ma che rendano sempre ben visibili i particolari della stanza abitata dal nostro congiunto. Accanto a questo poi ci sono alcuni minimi accorgimenti che fanno parte di quello che potremmo chiamare il decalogo dei familiari di fronte a una demenza, a una demenza con l'insonnia. È quello di curare una cena leggera e almeno un paio d'ore prima dell'andata a letto dal nostro paziente, ridurre la quota di liquidi assunti la sera, perché potrebbe trattarsi un problema binario, soprattutto nel caso di uomini. Dobbiamo fare in modo che l'attività fisica durante il giorno sia ben distribuita e concentrata soprattutto la mattina. Dobbiamo tenere sveglio il paziente durante il giorno il più possibile, evitando anche, seppure ci fosse l'abitudine, le cosiddette pennichelle pomeridiane, tanto amate, ma in questo caso poco consigliate. Questi provvedimenti sono quelli più normali che potete prendere prima di ricorrere alle goccioline. Ecco, delle goccioline, dei rimedi omeopatici, dei rimedi naturali, bisogna diffidare. Ne parleremo meglio in un prossimo intervento a cui vi invito. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!